Naturalmente è del tutto legittimo che ci possano essere delle manifestazioni di protesta, degli scioperi. Lo sciopero generale è un momento di alta protesta ma al quale noi dobbiamo avvicinarci con profondo rispetto. Per cui spero che si possano risolvere le polemiche che ci sono state in queste ore tra il Ministro delle Infrastrutture e il Segretario della CGL. Ho sentito ieri Lupi, mi ha detto che era in contatto con Camusso e che avrebbero presumibilmente trovato una soluzione. Spero che questo accada. C'è un diritto allo sciopero che è sacrosanto, costituzionalmente garantito e che noi rispettiamo. Il fatto che io non sia d'accordo con lo sciopero non significa che noi non facciamo di tutto perché lo sciopero di domani sia una grande manifestazione di protesta contro il nostro governo ma assolutamente ben organizzata e ben gestita. Io sono assolutamente certo che conoscendo le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero nel rispetto delle opinioni diverse che abbiamo, tutto domani fiderà liscio. Quindi profondo rispetto per i sindacati, per quei sindacati che fanno sciopero. Non la pensiamo come loro. Cambieremo il Paese anche per loro. Ma rispetto alla gestione e organizzazione dello sciopero, massima collaborazione istituzionale, massimo rispetto. E spero che la discussione, le incomprensioni che ci sono state nella giornata di ieri tra il Ministro Lupi e il Segretario Camusso, che non derivano tanto da vicende personali ma da un parere dell'autorità, di una delle tante autorità del nostro Paese, bene, spero che siano risolte nelle prossime ore. Noi lavoriamo perché tutto fili al meglio e nel frattempo domani staremo come tanti italiani a lavorare, a lavorare perché crescano le prospettive di sviluppo. Domani peraltro avremo un Consiglio dei Ministri anche pieno di tante notizie importanti a partire dai provvedimenti sulla corruzione. Per cui come vede rispetto a chi fa sciopero, noi lavoriamo. Buon lavoro a chi lavora e in bocca al lupo a chi fa sciopero con rispetto e senza polemiche.